Ciao a tutti. Sono tornato con un altro video. E in questo video imparerai come eliminare i post di Instagram. Quindi cominciamo. Prima di procedere, assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a Internet. Ora apri la tua applicazione Instagram. Una volta aperta l'applicazione, devi accedere al tuo profilo qui che saremo in grado di eliminare solo il post sul tuo profilo. Qui, seleziona un post che desideri eliminare e vai semplicemente a toccarlo. Quindi tocca semplicemente questi tre punti nell'angolo in alto a destra. Dopo averlo toccato, appariranno queste opzioni. Basta andare e toccare nell'Imina. Quindi tocca nell'Imina per confermare. E ora hai appena eliminato con successo un post su Instagram. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.